Il Pescara guarda anche al futuro. Oggi viene presentata questa iniziativa qui a Montesilvano, l'Accademia del Portiere, questo secondo campus proprio dedicato alla ricerca di nuovi portieri per le giovanine del Pescara. Abbiamo il valido contributo di tutto il settore giovanile dei preparatori dei portieri, di Gabriele Aldegani e della prima squadra e questo si prefigge l'obiettivo di in assoluto monitorare i ragazzi ma comunque dare la possibilità a tutti di allenarsi con dei preparatori professionisti. Quando partirà questo campus? Il campus estivo partirà il 15 giugno, il 16, il 17 e il 18. Faremo sette sedute, tre sedute doppie, una la mattina, del sabato con chiusura, pranzo al 20 beach del nostro team manager Andrea Gessa. Gli allenamenti si svolgeranno al Campi Vestina Zampacorta. Il nostro obiettivo è quello di fare al massimo 30 ragazzi, questo per poter lavorare in maniera più consona con i ragazzi senza fare dei gruppi molto grandi. A dedicare un'offerta per i nostri ragazzi, per tutti quelli che amano il calcio, che amano questa disciplina anche perché è il periodo in cui siamo agli onori della cronaca e siamo alla ribalta nazionale sia per i risultati del calcio al 5 sia per i risultati del Pescara Calcio. Ci auguriamo che questa possa essere un'iniziativa da implementare nei prossimi anni, sicuramente è un ottimo servizio per la città. Anche il sindaco Maragno giovedì sera seguirà, crediamo, la partita fra Trapani e Pescara, Montesilvano calcisticamente e Bianca Azzurra. Un appuntamento con la storia? Sicuramente, credo che tutti gli abruzzesi seguiranno questa partita. Ci auguriamo che questo possa essere davvero l'inizio di una grande crescita sportiva per tutti i movimenti. Grazie. Grazie.